eccoci ciao allora sono qui in cascina roccafranca ti faccio vedere bellissimo posto esterno è stato ricondizionato anni fa era una vecchia cascina l'hanno rimessa a posto è un posto meraviglioso per fare attività eccoci col gruppo del martedì mattina saltate ciao eccoci ok e sono qui per spiegati il numero 13 ossia la colomba apre le ali bene allora mettiamoci tutti in posizione a sinistra ok quindi quando vai in posizione così metti subito le mani davanti a cercare di mettere le mani di fronte al petto e gomiti come vedi alti così il piede negli ultimi esercizi è 45 gradi ed ecco luisa che ci fa vedere ok molto bene allora in vado dietro e chiudo le scapole es vado avanti e torno a posizione di partenza ok ovviamente lavora molto su questa articolazione quindi vai sempre leggero in apro ecco qui giorgio es guarda avanti giorgio ok e facciamo ancora uno in Claudio es adesso fate il passaggio dall'altra parte come abbiamo visto prima vedi ritorna il piede centrale poi si muove l'altro laterale e di nuovo ci mettiamo così e di nuovo in dietro quando vai in in si solleva il piedino es s in s in e ancora uno in s e ancora uno in molto bene ok questo è il numero 3 e questo è il numero 3 e questo è il numero 13 la colomba apre le ari io voglio ringraziare il mio gruppo eccoci qua e salutarvi ciao 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 Grazie a tutti.